Tra gli emendamenti dei relatori allo sblocca cantieri in arrivo in aula al Senato c'è il commissario per il Gran Sasso. Lo ha dichiarato il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a margine di una riunione di maggioranza al Senato sullo sblocca cantieri. Molto importante l'emendamento Gran Sasso, vanno ancora stabilite le coperture, le stanno istruendo al ministero delle economie e delle finanze, ma dopo era scontato non possiamo permetterci di rischiare la chiusura del traforo, ha detto Toninelli, precisando che si tratta di 150-180 milioni e si potrebbe iniziare con 20-30 milioni quest'anno. E' stata bocciata in commissione la proroga della restituzione delle tasse sospese dopo il sisma del 2009. Nonostante le rassicurazioni ufficiose avute dai rappresentanti del governo in merito all'iter del procedimento e gli allarmi e le preoccupazioni lanciate dall'associazione di categoria nell'ultimo tavolo in regione, convocato dal presidente Marco Marsilio e nella conferenza stampa congiunta di Confindustria, Ance e Api, nulla di ufficiale è stato mai comunicato alle organizzazioni del territorio in merito al percorso normativo ed istituzionale che il governo intende seguire per arrivare ad una definizione positiva dell'avvertenza in atto. E quanto dichiara il delegato alla ricostruzione di Confindustria L'Aquila, Abruzzo interno, Ezio Reinaldi, che sta seguendo da vicino la questione. Aveva origini aquilane, la bambina di due anni, morta a Roma dopo essere rimasta soffocata da una caramella. La piccola viveva nella capitale con i genitori e i nonni. Aveva origini aquilane da parte del padre, molto conosciuto nel suo quartiere dove ha un'attività commerciale. Si è sentita male dopo aver ingerito una caramella sabato pomeriggio mentre era in compagnia della nonna. Soccorse immediatamente e arrivata al policlinico Umberto I in arresto cardiaco. Ricoverate in terapia intensiva neonatale e morta dopo tre giorni. I genitori hanno deciso di donare gli organi. Si registra l'ennesimo furto all'Aquila. Questa volta è stato messo a segno nella notte nella zona industriale di Campodipile. Un colpo da 30.000 euro ai danni dello stori per Cina. I ladri hanno forzato una porta laterale e sono penetrati all'interno, trafugando il congro bottino nonostante il sistema di allarme ad infrarossi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'Aquila che stanno ora indagando al vaglio i filmati delle telecamere. Sono state attivate anche in Abruzzo le procedure di allerta, così come previsto dalle normative nazionali ed europee, su alcuni lotti di integratori alimentari a base di curcuma per un rischio chimico che potrebbe provocare un'epatite colestatica non contagiosa. Dai riscontri effettuati dal Servizio Igiene e Sicurezza degli Alimenti del Dipartimento Salute e Welfare, nella nostra regione risultano distribuite solo due partite di integratori, una in provincia dell'Aquila e una in provincia di Teramo, che sono già state ritirate direttamente dal produttore. Dell'allerta sono state informate anche le ASL, cui spetta, in collaborazione con l'innaste i carabinieri, la vigilanza sull'effettivo ritiro dai punti vendita, a cui sono state fornite indicazioni sui possibili rischi connessi al consumo del prodotto. Sul portale Sanità della Regione è stato inserito un collegamento alla pagina dedicata al Ministero della Salute, che può essere raggiunta all'interno del canale Prevenzione e Sicurezza Alimentare. È stata approvata lunedì al Comune dell'Aquila ed è in corso di pubblicazione sull'albopretorio la delibera per l'istituzione della consulta del commercio, un corpo intermedio tra amministrazione e singoli commercianti, come spiegato al capologo.it dal vice sindaco e assessore alle attività produttive Raffaele Daniele. La consulta, ha sottolineato Daniele, risponde ad un'esigenza di creare un corpo intermedio tra amministrazione e singoli commercianti, uno strumento agile in cui la politica è presente, ma senza diritto di voto. Saranno i commercianti che eleggeranno un Presidente al loro interno. Lo statuto sarà poi approvato in Consiglio per istituzionalizzarlo in modo tale da vincolare anche l'amministrazione. La consulta avrà il compito di coordinare le attività, pianificare e risolvere quei grandi e piccoli problemi che quotidianamente colpiscono i commercianti. Al via nel prossimo weekend a Castel di Sangro, il campionato mondiale studentesco di tennis. Sui campi del Centro Federale Tecnico si sfideranno 109 atleti tra i 15 e i 18 anni. Divisi in 10 team di ragazze e 12 di ragazzi provengono da 12 paesi di tre diversi continenti. Un'edizione dal forte respiro internazionale, dunque all'insegna del fair play e dell'amicizia pensata per favorire la diffusione dello sport nelle scuole. Il programma della manifestazione prevede l'arrivo delle delegazioni nella giornata di domenica, lunedì 3 giugno, la cerimonia di apertura, mentre le finali e le premiazioni si svolgeranno sabato 8 giugno. Sono tanti momenti di festa, come il Cultural Day del 5 giugno, con visita al Parco Nazionale d'Abruzzo. Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del campo in erba sintetica al comunale di Antrosano. Ieri mattina alla presenza del sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis, dell'assessore allo sport Emilio Cipollone e del consigliere comunale Giovanni Lucitti, il responsabile della ditta Carintia, ha firmato il contratto. Il nuovo campo sintetico sarà pronto prima della fine dell'estate. L'apertura di questo nuovo cantiere è motivo d'orgoglio per l'amministrazione comunale, ha commentato l'assessore Cipollone. I fondi impiegati per la realizzazione del campo sintetico arrivano da avanzi di amministrazione derivati dal rispetto del patto di stabilità. Per il loro utilizzo abbiamo ricevuto l'ok del Ministero delle Economie e delle Finanze. Il capo sportivo di Antrosano versava in pessime condizioni, ha sottolineato il consigliere Lucitti, necessitava pertanto di un intervento radicale. Da sempre rappresenta un punto di aggregazione per tanti giovani che si allenano trascorrendo il proprio tempo in modo salutare. Con la riqualificazione il campo potrà ospitare dai campionati minori fino all'eccellenza. L'arte e la creatività degli alunni dell'Istituto Maestre Pie Filippini di Sulmona nella mostra di pittura con gli occhi dei bambini. Ce l'occuperemo tra poco nella rubrica Il Punto. Il Punto.